6.33 p.m. will arrive at platform 6 instead of time Attenzione! Per viaggiare su un P3 videobligo Attenzione! Per viaggiare su un P3 videobligato a indossare la mascherina vivo al P3 videobligo Attenzione! Treno di traccio ordinario 4 a lontanarsi dalla linea gialla Attenzione! Treno di traccio ordinario 4 a lontanarsi dalla linea gialla Grazie a tutti.